ciao ragazzi buongiorno ciao ciao ti chiami luigi luigi io sono daniele sarò il tuo video mi vuoi raccontare un po cosa stai per fare per lanciarmi in tandem col paracadute tuo primo salto si è primo salto era un po di un po di anni che volevo farlo e poi per il compleanno me l'ha regalato quindi un gran bel regalo dai senti pronto da dove vieni da milano va bene allora ci vediamo in aereo ok a dopo ciao grande dammi un cinque ciao il nostro aereo ciao 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 un spettacolo amicizio sei divertita come un batto bellissima è bellissima bravo guarda attentare pure vieni in piedi bellissima vieni grande grazie a tutti